Sabah al-Fair, benvenuti alla presentazione sull'Arabia Saudita del progetto Export Library, una collaborazione tra Camera di Commercio di Torino e Università degli Studi di Torino. Il regno dell'Arabia Saudita, in arabo Mamblaka al-Arabia al-Saudiya, è il paese più esteso della penisola arabica. Posizionato al centro dello scacchiere medio-orientale, è da millenni un luogo strategico che collega Asia ed Africa, nonché culla della religione islamica. Il paese è infatti custode delle città sante di Lamecca e Medina, che ogni anno attirano in pellegrinaggio milioni di fedeli. L'Arabia Saudita confina con la Giordania e l'Iraq a nord, con il Kuwait a nord-est, con il Qatar e gli Emirati Arabi uniti ad est, con l'Oman a sud-est e con lo Yemen a sud. Il paese si affaccia inoltre sul Mar Rosso a ovest e sul Golfo Persico a est. La capitale dell'Arabia Saudita è Riyadh. Altre città importanti oltre alla capitale, e le città sante di Medina e Lamecca, sono la città di Gidda e la città di Attaif. Il regno dell'Arabia Saudita è una monarchia islamica e Re Salman è l'attuale monarca dal 2015. L'ordinamento dello Stato non prevede una vera e propria costituzione, anzi applica la legge della Sharia come principio giuridico fondamentale. Il paese è infatti sprovvisto di un Parlamento e non è consentita la formazione di alcun partito politico. Soltanto a livello locale, dal 2005, sono permesse consultazioni elettorali. Sul piano della cooperazione internazionale, l'Arabia Saudita rappresenta la maggiore economia e potenza politica del Consiglio di Cooperazione del Golfo, un'unione doganale ed economica con Emirati Arabi, Kuwait, Bahrain, Oman e Qatar. L'Arabia Saudita è inoltre un influente membro dell'OPEC. Il regno è suddiviso in 13 province guidate da governatori e vicegovernatori di nomina regia, affiancati da consigli provinciali. Come ho già accennato nella slide precedente, le uniche consultazioni elettorali nel paese sono a livello locale e interessano le elezioni della metà dei membri dei consigli municipali. L'altra metà è invece di nomina regia. Le ultime elezioni amministrative risolgono al 2015, a cui sono state ammesse per la prima volta anche le donne. La formazione dei partiti politici, così come qualsiasi altra forma di dissenso, resta comunque vietata. La fondazione della monarchia islamica saudita è avvenuta in seguito all'unificazione ed espansione dello Stato da parte di Abdul Aziz Ibn Saud nel 1932. Fin dall'inizio del suo regno, Ibn Saud ha avviato una politica estera di espansione, che l'ho visto in urto con i vicini Yemen e Giordania. Sul piano interno ha promosso invece, a partire dalla sua scoperta al 1938, lo sfruttamento delle ingenti risorse petrolifere saudite, con gli aiuti finanziari e tecnici degli Stati Uniti. Ricordiamo che l'Arabia Saudita detiene ben il 17% delle risorse petrolifere mondiali ed è considerato il terzo produttore di petrolio nel mondo dopo Stati Uniti e Russia. L'Italia, ad oggi, guarda l'Arabia Saudita con lo sguardo teso verso le opportunità di investimento offerte dal piano Vision 2030, promosso a partire dal 2016 dal principe ereditario Mohamed Bin Salman. Si tratta di un possente piano di azione che mira a trasformare l'immagine internazionale e l'economia saudita finora strettamente dipendenti dalle rendite degli idrocarburi. Negli ultimi anni l'Arabia Saudita ha assunto un ruolo regionale molto importante circa il conflitto in Yemen. Riyadh, di fatti, sostiene il governo legittimo yemenita in risposta ai ribelli uti che minacciano la sicurezza del regno lanciando missili e droni. Dal punto di vista economico, gli ultimi anni di pandemia hanno avuto un impatto importante sull'economia saudita, che nel 2020 ha registrato una contrazione del PIL del 5,4%. La dipendenza delle finanze pubbliche dai ricavi fiscali dell'esportazione di idrocarburi si è sentita particolarmente nel marzo 2020, quando il prezzo del petrolio è sceso sotto i 30 dollari al barile. Una nota importante è quella sulla crescita dell'inflazione e sull'aumento degli indici dei prezzi al consumo, registrato a partire dal 2020, quando l'IVA è passata dal 5% al 15%. Per ciò che concerne la divisione per settori del PIL, il settore primario occupa solo il 3% con la produzione di frumento, datteri e allevamento di pollame. Il settore secondario ricopre invece il 48% del PIL, generato per buona parte dal settore degli idrocarburi. Da questo dato è comprensibile l'importanza del settore per il Paese, che esercita costanti pressioni insieme ai Paesi OPEC+, per mantenere un contingentamento della produzione. L'altra grande fetta del PIL percentuale saudita è ricoperta dal settore terziario, che con il suo 49% è composto in buona parte da attività bancarie e finanziarie e dall'attività economica generata dagli imponenti pellegrinaggi dei fedeli verso la Mecca e Medina. Per fornire l'idea della distribuzione regionale del prodotto interno lordo dell'Arabia Saudita, possiamo analizzare la correlazione che ritroviamo tra l'intensità di luce notturna della foto satellitare e la mappa della densità di popolazione. Attraverso la sovrapposizione di questi due dati, comprendiamo la distribuzione del PIL saudita, che è concentrato principalmente nelle province di Al-Hudud al-Shamaliyatu, Riyadh e la Mecca. Per quanto riguarda i rapporti commerciali tra l'Italia e il Regno Saudita, sono stati avviati a partire dal 1932 con la prima stipula di due trattati, uno decennale di commercio e uno di amicizia. Interrotti durante la guerra, i rapporti sono poi ripresi a partire dagli anni 50, quando l'Eni di Mattei si interessò a creare rapporti diretti con i paesi produttori di petrolio. A partire dagli anni 70 furono conclusi diversi accordi anche culturali. Nel 1973, Re Faisal visitò l'Italia e contribuì con 7 milioni di dollari al progetto del centro islamico di Roma. Per quanto concerne invece le relazioni economiche, è di particolare rilievo la Costituzione del 1993 dell'Associazione delle Aziende Italiane in Arabia Saudita. Nel 2021 l'interscambio tra Italia e Arabia Saudita ha segnalato un incremento del 32,9% rispetto all'anno 2020. Le importazioni sono aumentate del 63,7%, mentre le esportazioni hanno fatto registrare un più 4,4%. Il 97,6% delle esportazioni italiane verso l'Arabia Saudita nell'anno precedente è stato costituito principalmente da prodotti manufatturieri. Tra le percentuali più consistenti, il 32,6% ha rappresentato le esportazioni di macchinari e apparecchi, seguiti in percentuali minori dall'esportazione di apparecchi elettrici, prodotti alimentari, bevande e tabacco, prodotti in metallo, mezzi di trasporto e prodotti chimici. Per quanto riguarda invece le importazioni dall'Arabia Saudita, il 48% ha riguardato prodotti delle estrazioni di minerali, mentre il 36,1% prodotti petroliferi raffinati con diversi aumenti percentuali rispetto all'anno precedente a causa della pandemia. Focalizzandoci sull'interscambio tra Regione Piemonte e Arabia Saudita, nel 2021 il 7% delle esportazioni italiane verso l'Arabia Saudita proveniva dal Piemonte. Lo scorso anno la nostra Regione ha venduto all'Arabia Saudita principalmente prodotti alimentari e bevande e tabacco, per circa il 27,5% dell'export regionale totale, seguiti per un 24,6% da macchinari e apparecchi, seppur in calo del 26% rispetto al 2020. Tra gli altri, i prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura hanno rappresentato il 10,9% dell'export regionale. Volgendo lo sguardo invece sui prodotti importati dall'Arabia Saudita, il Piemonte nel 2021 ha acquistato per il 73,1% sostanze e prodotti chimici con un aumento del 1.600% rispetto al 2020. I metalli di base e i prodotti in metallo hanno rappresentato con il 22,6% in aumento del circa 300% rispetto al 2020, un altro import fondamentale. Spostando ora il focus sulla città metropolitana di Torino, possiamo notare come l'interscambio con il Regno Saudita si è rimasto sempre modesto. Nel 2021 il 99,7% delle esportazioni verso l'Arabia Saudita, circa 60 milioni di euro, era costituito da prodotti dell'attività manufatturiere, principalmente mezzi di trasporto, macchinari e apparecchi elettronici ed optici. Nella città metropolitana di Torino, nello stesso anno, sono stati acquistati dall'Arabia Saudita merci per un valore totale che sfiera i 12 milioni di euro, soprattutto sostanze e prodotti chimici, circa 7,2 milioni di euro, con un aumento dell'800% rispetto all'anno precedente. Inoltre, sono stati acquistati, sempre nello stesso periodo dai turinesi, metalli e prodotti in metallo, per un valore di 4 milioni di euro, con un aumento del 200% rispetto all'anno precedente. L'analisi SWOT evidenzia principali punti di forza e debolezza, così come le potenziali opportunità e minacce che l'Arabia Saudita potrebbe presentare. Il Regno presenta una posizione strategica, una popolazione giovane ed eccellenti infrastrutture che negli ultimi anni sono state potenziate a seguito del programma Saudi Vision 2030, programma che punta alla diversificazione dell'economia saudita e a dare lustro internazionale al Paese. Negli ultimi anni, il sostegno alle privatizzazioni è stato favorito con incentivi governativi agli investimenti privati. D'altro canto, sono da tenere in considerazione alcuni aspetti di incertezza nell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuali e di denominazione DOP, oltre che i diversi rischi politici dovuti alle successioni ereditarie e alla dipendenza dei conti pubblici dalla rendita di idrocarburi. Per quanto riguarda la società saudita, i dati demografici in tabella ci confermano una popolazione giovane che vive principalmente nelle aree più urbanizzate del Paese. L'età media in Arabia Saudita è di 30,2 anni, mentre il tasso di fecondità è di 2,2 figli per donna. Una nota molto importante da fare sull'Arabia Saudita è quella sulle politiche di genere. Negli ultimi anni, vi sono state molte riforme che hanno permesso alle donne saudite di migliorare la propria condizione, seppur siano ancora presenti nel Paese delle fortissime disparità tra i due sessi. Il programma Vision 2030 ha introdotto alcune modifiche allo status femminile, riformando in parte il regime della guardiania, sistema che prevedeva una costante tutela maschile. Diverse sono state le conquiste delle donne saudite, a cui è stato permesso di guidare l'auto, di viaggiare in autonomia o divorziare, seppur dovendo sempre ricorrere al permesso del tutore maschio. Vediamo ora alcuni consigli su quali atteggiamenti tenere durante un viaggio in Arabia Saudita e in generale nei rapporti con i cittadini del Regno. Durante la permanenza nel Paese è bene utilizzare un abbigliamento rispettoso e non scoprire parti del corpo come braccio-gambe anche nelle stagioni più calde. In un primo incontro con un probabile socio in affari è consigliabile stringere la mano a tutti i partecipanti da destra o verso sinistra, a meno che non ci siano donne. Nel proporre la propria afferta commerciale è bene fornire dati concreti. I sauditi, di fatti, vogliono capire subito i vantaggi che potrebbero trarre dalla vostra proposta. D'altro canto, non è consigliabile mostrarsi impazienti o fare critiche troppo dirette al vostro interlocutore. Per quanto riguarda le decisioni, in Arabia Saudita sono spesso frutto di lunghe riflessioni proprio perché si punta ad instaurare rapporti duraturi. È importantissimo inoltre assenersi da fare regali che potrebbero essere interpretati come corruzione, offesa moralmente gravissima che potrebbe causare anche problemi con la giustizia in Arabia Saudita. Dato il forte conservatorismo politico e religioso, è bene evitare giudizi sulla situazione politica interna e sulla casa reale, anche a causa della grande censura a cui il Paese è sottoposto. Per quanto riguarda la religione, è generalmente apprezzata la curiosità, pur mantenendo un atteggiamento rispettoso e mai assolutamente di critica. Per instaurare solidi rapporti di fiducia con i partner, è consigliato accettare l'ospitalità e diffusi inviti a pranzo o a cena. Attenzione però ai membri femminili della famiglia, con cui è raccomandabile dimostrarsi cordiali, ma evitando interazioni non necessarie, che potrebbero offendere la controparte. Nel caso inviaste in Arabia Saudita rappresentanze femminili, è necessario tenere conto che potrebbe essere più ostico stringere rapporti proficui con partner commerciali che non hanno dipendenti donne. In conclusione diversi consigli di approfondimento sull'Arabia Saudita. Per avere informazioni sempre aggiornate sul paese, si possono consultare i portali infomercatiesteri.it e viaggiarisicuri.it, entrambi curati dal Ministero degli Affari Esteri. E inoltre è consultabile online il sito dell'Istituto Statistico Saudita. Nella seconda parte della slide sono riportati alcuni approfondimenti culturali. Gli scrittori sauditi più celebri sono Abduqal e Rajalem. Dal punto di vista tradizionale, affascinante è la Takir, danza tradizionale di guerra saudita accompagnata da musica tradizionale. Il panorama musicale odierno è invece molto vario e stimolante. È ricco di influenze pop con cantanti come Abdul Majel Abdullah, una star nel paese, o gruppi poco conosciuti come Al-Namrud, una band folk black metal. Per quanto riguarda il cinema è da citare la regista Haifa Al-Masur, prima regista donna saudita che ha fatto scalpore con i suoi cortometraggi critici sull'ortodossia del regno. Vi ringrazio per l'attenzione. Nel caso di dubbio o chiarimenti, vi invito a contattarmi al mio indirizzo e-mail. Grazie a tutti.